Musica Buongiorno, benvenuti al TG2000 edizione delle ore 12. Questi i titoli di oggi. È morto nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma il capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Rina, che proprio ieri aveva compiuto 87 anni nel TG il ricordo di un magistrato del pull antimafia. Fine vita dopo le parole del Papa di ieri sull'accanimento terapeutico si riapre improvvisamente il dibattito politico intorno alla legge sul biotestamento giunta in Senato ma per ora non ancora bloccata. Niente più maestri e maestre e così la scuola primaria di Alicudi nelle isole Eoglie, la più piccola d'Europa, chiude ancora i battenti appello del sindaco dell'arcipelago Marco Giorgianni al premier Gentiloni. E lo avete sentito nei titoli, Totò Rina è morto questa notte alle 3.37 come scritto nel referto medico nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma. Aveva 87 anni, compiuti proprio ieri, da 24 anni era in carcere al 41 bis. Antonio Soviero. 17.11.2017, ore 3.37. Il capo dei capi non c'è più. Totò Rina è morto nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma. Operato due volte nelle scorse settimane, dopo l'ultimo intervento, era entrato in coma. Ieri aveva compiuto 87 anni e il guardasigilio Orlando aveva dato l'autorizzazione alla visita dei figli. La notizia della morte del capo di Cosa Nostra trova ampio risalto sulle pagine online dei maggiori quotidiani internazionali. Da Corleone a Palermo, la carriera nella mafia siciliana fu veloce e spietata, prima a fianco del boss Liggio, poi alla guida della cupola. Protagonista della stagione delle stragi, al suo nome sono legati alcuni dei più clamorosi attacchi allo Stato, come gli omicidi Pietro Scaglione e Pier Santi Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inoltre, ordinò la morte di Falcone, Borsellino e dalla Chiesa. Secondo gli inquirenti, Ucurto era ancora il capo di Cosa Nostra, nonostante la detenzione al 41 bis da 24 anni. Curiosamente, gli stessi anni, 24, di latitanza prima del suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993 da parte del capitano ultimo. Totorina non si è mai pentito. Tre anni fa, parlando con un altro detenuto durante l'ora d'aria, si vantava dell'omicidio di Falcone e continuava a minacciare di morti i magistrati. L'ultimo processo a suo carico, ancora in corso, è quello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. A luglio, la richiesta di differimento della pena avanzata dai suoi legali era stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Secondo i giudici, nell'ospedale Emiliano veniva curato nel migliore dei modi. Ora Totorina è morto e si è portato i suoi segreti nella tomba, a parte quelli noti, al suo rampollo, il superlatitante Matteo Messina Denaro. Cosa significa la morte di Totorina? Quali e quanti segreti ha portato via con sé? Lo abbiamo chiesto al magistrato Leonardo Guarnotta, che è stato membro del pull antimafia coordinato dal giudice Antonio Caponnetto e con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello, ha istruito il maxiprocesso di Palermo. Lo ha raggiunto al telefono Luigi Ferraiolo. Era ancora il capo della mafia, come diceva ancora qualcuno, oppure no? Beh, guardi, ritengo che dopo quel periodo in cui mi sono occupato insieme agli innamorabili colleghi, si riteneva, tuttora si ritiene, che fino a qualche tempo fa Totorina fosse ancora il capo dei capi insieme a Provenzano. Ecco, negli ultimi tempi ovviamente le cose forse saranno cambiate. Leggo sui giornali, perché ripeto non ho più il posto della situazione, che tutti i fuoriusciti, soprattutto quelli che hanno scontato le lunghe pene e i rocati dopo l'esperienza del pullo antimafia, si siano ricostituiti e leggevo, ripeto perché non ho più il posto della situazione, che aspettassero la notizia del decesso di Salvador Irina per ricostituirsi. La mafia è ancora pericolosa per l'Italia, anche se al giorno d'oggi se ne parla di meno? Bisogna uscire da un equivoco. Cioè, non c'è una mafia buona e una mafia cattiva. Una mafia c'è buona perché non spara quasi più, non ci sono attentati dinamitardi, non uccide più. La mafia, comunque sia il suo atteggiamento, è sempre una situazione pericolosissima. Bisogna soltanto pensare che la mafia è passata da una strategia stragista, che non ha pagato, vista la reazione forzissima dello Stato, a una strategia di sommersione. Lei ha odiato Irina, ha avuto paura? No, guardi, insomma avere paura è un sentimento umano e come tale ognuno di noi non può sfruggire. Ma però occorre che, come dicevano i miei colleghi, accanto al lavoro ci sia anche il coraggio di poter proseguire. Dopo le parole di ieri di Papa Francesco, sul fine vita si è riaperto il dibattito politico intorno alla legge sul biotestamento, ferma in Senato da tempo e al momento lontana dall'attuale agenda politica. Con Nicola Ferrante facciamo il punto sul provvedimento e sui nodi principali ancora da sciogliere il servizio. Quella legge è impantanata che divide coscienze e partiti. Se ne parla ufficialmente dal 2013 nei palazzi della politica, ma già dal 2009 col caso Englaro il tema sembrava una svolta decisiva. E ogni volta che sulle cronache appare una nuova vicenda che spacca le coscienze, l'iter sembra improrogabile, poi però cala il silenzio. Come ormai da sette mesi, da quando cioè la Camera ha provato la prima bozza, adesso le parole del Papa sul fine vita riaprono la questione, ma quando sarà approvata la legge? Il Senato accolga l'invito del Papa evitandone strumentalizzazioni e inserisca il concetto della proporzionalità delle cure e la contestualizzazione dell'idratazione e della nutrizione all'interno della situazione clinica, oltre che il rispetto della coscienza del medico e la tutela dei soggetti più deboli. I tempi sono strettissimi, all'orizzonte delle elezioni la volontà di andare presto alle urne, sciogliendo le camere entro Natale, non prima di aver approvato, però la finanziaria entro fine novembre, si dice. Così restano una ventina di giorni per le due questioni aperte, ius soli e fine vita. Troppo pochi per aprire il dibattito, allora si punta a porre la fiducia. Nodo cruciale l'inserimento di idratazione e nutrizione fra le decisioni che spettano al paziente. Ieri sera a margine della presentazione di un libro su Papa Francesco è tornato sull'argomento il sostituto alla segreteria di Stato. In qualsiasi veste si presenti, da parte della Chiesa la morale della Cattolica ha sempre rifiutato l'intervento diretto a far cessare la vita di una persona. Ago della bilancia per la nuova legge potrebbe essere allora il Movimento 5 Stelle che già la Camera ha votato a favore del testo ritenendola una priorità non più rinviabile. Come è noto, negli ultimi giorni sono stati più frequenti i contatti fra Grillini e Vaticano con l'incontro fra il Cardinal Parolin e Luigi Di Maio. Io l'ho preso dal giornale che il Cardinale ha incontrato Di Maio a Washington. Questo non vuol dire supportare né lui né altri dal punto di vista politico. La stampa ha rivelato che c'è stato anche un altro collaboratore stretto dell'entourage del Papa, ne sa niente. Ne hanno fatto il nome? No. Bisogna scoprirlo. Ci aspetti sono su di lei. No, ma va. A Ostia è l'ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio in vista del ballottaggio di domenica per eleggere il presidente del decimo municipio di Roma. In Lizza ci sono la candidata del centrodestra Monica Picca e quella del Movimento 5 Stelle Giuliana Di Pillo. Ma nella zona l'attenzione resta altissima dopo i fatti della scorsa settimana con l'arresto di Roberto Spada. Ieri ancora una manifestazione antimafia. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza, Ancomarzio, vicino a Lungomare, con il sindacato dei giornalisti e l'associazione libera di Don Luigi Ciotti per dire no all'eggemonia mafiosa dei clan e per la libertà di stampa. E nella notte è arrivato un ennesimo gesto intimidatorio. È stato dato alle fiamme il portone della sede locale del Partito Democratico fatto su cui la procura di Roma ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti. Via libera ieri in aula del Senato al decreto fiscale collegato alla legge di stabilità ma già si pensa alla manovra finanziaria da questa mattina in commissione bilancio al Senato. Ripercorriamo le principali novità del provvedimento approvato ieri e poi facciamo il punto sulla legge di stabilità il cui iter parlamentare è cominciato il 31 ottobre scorso e che si concentrerà in particolare su due grandi temi pensioni e ticket sanitari. Ci spiega tutto Marco Bergamaschi. Via libera con la fiducia al Senato al decreto fiscale collegato alla manovra il testo passa ora all'esame della Camera. Tra le principali novità lo stop alle bollette a 28 giorni per telefoni e abbonamenti tv che dovranno essere mensili. Il cosiddetto pacchetto sisma prevede la sospensione fino al 2020 delle rate dei mutui su prime case e attività produttive inagibili o distrutte e ancora approvate le detrazioni per gli studenti fuori sede. I ragazzi con meno di 14 anni potranno poi tornare da soli a casa da scuola con l'autorizzazione dei genitori. In arrivo per le scuole semplificazioni per i vaccini saranno le aziende sanitarie e inviari certificati. Si allarga infine la rottamazione delle cartelle esattoriali che si stima porterà nelle casse dello Stato 209 milioni di euro e cambia lo spesometro. Ma i tempi stringono in vista della fine della legislatura e alla Commissione Senato di Palazzo Madama sono subito iniziati i lavori sulla legge di bilancio in aula dal 27 novembre con la scrematura degli emendamenti inammissibili. Già bocciate tutte le proposte anti-Flixbus compagnia di autobus low cost. Tra le proposte l'abolizione del super ticker sanitario da 10 euro e l'introduzione di un bonus fiscale dedicato ai nonni con agevolazioni per gli aiuti prestati ai nipoti e tra le questioni più roventi sul piatto le pensioni e l'eventuale rinvio dell'innanzamento a 67 anni dell'età pensionabile che dovrebbe scattare dal 2019 e risarcimento degli azionisti delle banche venete. Si tratterà anche della rintroduzione del bonus bebè e della proroga dell'anticipo pensionistico social fino al 2019. Legittimi i licenziamenti di Almaviva lo ha stabilito un'ordinanza del giudice del lavoro di Roma condannando la società che si occupa di call center al centro di un duro braccio di ferro sindacale culminato con un licenziamento di massa a reintegrare gli stessi lavoratori 153 per l'esaltezza e a corrispondere loro a titolo di risarcimento danni un'indennità comprensiva degli interessi pari agli stipendi maturati dal giorno del licenziamento fino alla reintegra soddisfazione da parte dei sindacati da parte sua Almaviva invece replica annunciando che darà ovviamente seguito all'ordinanza riammettendo però i lavoratori presso le sedi disponibili e adesso andiamo in Sicilia dopo la partenza dell'ultima supplente resta senza maestri la scuola primaria di Alicudi nelle isole Olie la più piccola d'Europa un problema che vivono tantissimi ragazzi che studiano negli istituti lontani dalla terraferma il servizio è di Clara Iatosti un mare da sogno isole come paradisi naturali ma solo per i turisti che d'estate affollano l'arcipelago delle Olie chi risiede qui ne vive solo tutti i disagi soprattutto i bambini in particolare ad Alicudi lo avevamo già denunciato nella scuola più piccola d'Europa nell'angolo più remoto della Sicilia l'ultima supplente della primaria è partita seguita a ruota dalla collega del CPE il centro preparazione esami per le prove di terza media i tre bimbi delle elementari sono ancora una volta orfani di maestra prima le elezioni ora la mancanza di insegnanti la scuola è di nuovo chiusa le mamme di Alicudi non ci stanno hanno chiamato i carabinieri e chiedono una soluzione a gran voce eppure di docenti disposti a passare l'inverno in questo paradiso nemmeno l'ombra il paradosso è che otto maestre nate nell'isola vorrebbero tornarci ma questioni burocratiche di graduatori e punteggi e classifiche la cosiddetta buona scuola le confinano sulla terraferma il sindaco dell'arcipelago Giorgiani ha fatto appello al premier e al presidente della repubblica perché si è concessa una deroga che permetta alle docenti e residenti di insegnare qui i bimbi di Alicudi li aspettano per imparare le tabelline e adesso torniamo alla visita a sorpresa di Papa Francesco che ieri è uscito dal Vaticano per incontrare medici e operatori del presidio sanitario solidale ha rallestito in piazza più dodicesimo proprio di fronte a San Pietro una delle tante iniziative che accompagnano la giornata mondiale dei poveri istituita proprio da Papa Francesco che si celebrerà domenica prossima Barbara Masulli qui c'è l'accoglienza l'esercito ci ha dato qui abbiamo un po' i volontari delle misericordie sono bravi questi volontari Francesco Scherza sono bravi questi volontari chiede a Monsignor Fisichella che lo accompagna in questa visita a sorpresa a due passi da piazza San Pietro sono le 15 e 30 il Papa porta il suo saluto al presidio sanitario solidale una delle iniziative nell'ambito della prima giornata mondiale dei poveri da lui stesso indetta in programma domenica fino al 19 chi non può permettersi di pagare di tasca propria una visita specialistica può venire qui dalle 9 alle 16 Bergoglio saluta i volontari e i pazienti sono molto emozionati questa cosa che facciamo bellissima veramente che dobbiamo fare di più perché ecco lui arriva dall'Egitto è giovane c'è chi li bacia la mano chi gliela stringe e chi chiede una foto il Papa ascolta tutti è curioso risapere quello che fanno i volontari della Confederazione delle Misericordie gli offrono una bevanda calda poi Francesco va via sorridendo ha indetto questa giornata e ci ha chiamato le Misericordie che da secoli sono abituate a mettersi al servizio del prossimo grazie a fratelli e sorelle che volontariamente come questi giovani si sono messi a disposizione abbiamo voluto rispondere e vedersi il Papa così da vicino è stato per noi insomma davvero una gioia perché siamo stati anche ripagati ecco di questo mettersi al servizio gratuitamente con ciò che abbiamo con la nostra disponibilità con questo ambulatorio e ascoltiamo come sempre le parole di Papa Francesco pronunciate anche questa mattina a Santa Marta prendendo spunto dalla liturgia del giorno il Papa ha invitato i presenti a riflettere sugli ultimi tempi sulla fine del mondo e sulla fine anche della nostra vita ascoltiamo allora le sue parole e oggi la Chiesa oggi il Signore con quella bontà che ha dice a ognuno di noi fermati fermati non tutti i giorni saranno così non abituarti a questo come questo fosse l'eternità ci sarà un giorno che tu sarai tolto l'altro rimarrà tu sarai tolto tu sarai tolta e andare col Signore pensare che la nostra vita avrà fine e questo fa bene pensare alla morte non è una fantasia brutta è una realtà se è brutta o non brutta dipende da me come io la penso ma che ci sarà ci sarà e lì sarà l'incontro col Signore questo sarà il bello della morte sarà l'incontro col Signore sarà lui a venire incontro sarà lui a dire vieni vieni vendetto del mio padre vieni con me e con le parole del Papa terminiamo il nostro Tg prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.30 io vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi lascio alla consueta rubrica culturale terza pagina segui vieni a